di cancellare qualcosa e riprendere energie, è lì che vado a rifugiarmi, città che viene raccontata ovviamente turisticamente per quello che è, la giornata della città del gioco bazzardo, una città del peccato, Sin City, in realtà una città molto viva, molto popolosa, oltre 3 milioni di abitanti, è più grande di Roma, oggi parleremo dei fatti di Las Vegas con un punto di vista che non avete ancora ascoltato, sui media derivante dalla lettura, chi l'ha già fatta di o capiamo o moriamo, vedrà che i fili cominciano a connettersi e ancora una volta non vogliono che noi capiamo, il racconto che trovate su tutti i giornali in queste ore è il racconto di un pazzo, lupo solitario come viene definito, accompagnato al dibattito sulla diffusione delle armi negli Stati Uniti, è un dibattito completamente fuorviante rispetto a quello che effettivamente è accaduto e che in questa puntata ricostruiremo con precisione, quindi vi chiedo se è possibile di fare un mi piace alla diretta, condividerla sulla vostra pagina, invitare i vostri amici a seguirla perché vi assicuro che oggi diremo cose sulla strage di Las Vegas e su tutto ciò che sta accadendo in questi giorni che da nessuna altra fonte di informazione che non sia il popolo della famiglia tv troverete raccontate. Vedo molti arrivare, Jacopo Pioli ci raggiunge dalla Cina, c'è Giovanni Fiori, nostro candidato presidente al decimo municipio, il tuo presidente operaio, ieri si è smazzato 525 certificati al Comune di Roma per presentare la lista del popolo della famiglia alle prossime amministrative di Ostia il 5 novembre, saluto Flaminia Longobardi, Federico Pieroni, Simon Pietro Carta, Antonio Lauletta, Angelica Bosio, Giulia Vigano, Cesare Fanfani, Mauro Rotunno, vi chiedo davvero come sta facendo Mauro Rotunno, condivisa la diretta, inviti a manetta, questa puntata di oggi collegata alla lettura di O Capiamo o Moriamo che spero che qualcuno abbia già completato, vi darà il quadro di quello che sta realmente accadendo in questi giorni, quindi se posso chiedervi davvero oggi facciamo capire che la PDF TV è un luogo dove si apprendono cose che l'informazione tradizionale non offre. Cristiano Alfano ci saluta dal Belgio, Vladimiro Campello, dal Friuli Venezia Giulia, c'è Mauro Turrini, il grande popolo della famiglia di Riolo Terme, Vittoria Polacci, Forte dei Marmi, ci vediamo sabato a Forte dei Marmi, c'è Giampiero Bonfanti del PDF di Monza, Gloria Gallarelli dal PDF Veneto, saluto Antonella Iuna, Anna Cavallo, Emanuela Pongiluppi che dice mi piace, condividi, invita amici, diffondiamo la salvezza per mezzo della verità, esattamente così, Francesca Patuzzi, la bella Francesca da Verona, così come la bella Giovanna Arminio da Noto in quel di Sicilia, proveniente da Bolzano, capite che ormai noi siamo un po' al limite del dolo e dell'ubiquità, insomma, saluto Maria Rosa Ferradesi, Manuela Miraglia, Saimir Zmali, Susanne De Emets, Giovanni Amoroso, Manuela Miraglia ha cominciato a leggere, o capiamo moriamo ieri, arriverà quindi nella lettura al capitolo riguardante gli attentati di origine islamica e credo capirà una filiera di alcuni passaggi che sono fondamentali per comprendere ciò che sta avvenendo. Cosa ci illumina sempre al mattino? Ci illumina la lettura del Vangelo, guardate la lettura del Vangelo di oggi veramente ci dà una luce speciale, ci dà una luce speciale e allora lo leggiamo insieme il Vangelo di Luca, siamo nel capitolo 9, i versetti sono dal 51 al 56, ascoltate questa pagina di Vangelo di oggi e capirete subito che ci illumina, illumina su quello che dobbiamo dire, fare e anche pensare rispetto agli argomenti. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri, questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui, ma essi non vollero riceverlo perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò i discepoli Giacomo e Giovanni dissero, Signore vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li rimproverò e si avviarono verso un altro villaggio. La parola di oggi è una parola talmente adatta a quello che stiamo per dire, che davvero ci fa capire come il Vangelo illumini la nostra strada. Gesù davanti allo straniero, all'infedele che non lo accoglie, è davanti ai suoi amici che dicono facciamo piovere fuoco dal cielo, pensate a questi spari dal 32esimo piano di ieri. Gesù si volta e li rimprovera. Quando noi difendiamo la nostra identità, quando noi difendiamo la nostra radice cristiana, noi difendiamo il Gesù che rimprovera chi vuole essere violento con chi è infedele. C'è chiaro? Noi non difendiamo il diritto all'aperitivo quando diciamo difendiamo la nostra civiltà, noi difendiamo il Cristo dell'amore, il Cristo dell'amore, il Cristo che davanti a colui che lo rifiuta non invoca il fuoco dal cielo, ma rimprovera coloro che vorrebbero andare con il fuoco dal cielo, perché il cristianesimo è religione totalmente altra, totalmente altra dalla religione della violenza. Ora questo è ciò che noi difendiamo, i 70 anni di pace che la nostra generazione ha potuto vivere dopo la seconda guerra mondiale sul territorio europeo, sono 70 anni di conquista della radice giudaico-cristiana che dopo l'orocausto e la tragedia infinita della seconda guerra mondiale ha recuperato ragione e dice con il cristianesimo mai più guerra. Ora questo elemento, questa pagina di Vangelo spiega qual è la ragione profonda per cui noi difendiamo ciò che siamo, perché nel difendere ciò che siamo difendiamo la pace, difendiamo l'esistenza e la possibilità di coesione tra i popoli, difendiamo quello sguardo, lo ripeto, di Cristo che rimprovera i suoi stessi discepoli che vorrebbero invocare fuoco dal cielo contro gli infedeli. Capite la radicale alterità rispetto a una religione come quella islamica che ho illustrato in Non capiamo o moriamo, che ha invece nei confronti dell'infedele una azione di tipo violento. Questo è un punto di partenza ineliminabile. Quando ci dobbiamo chiedere perché la battaglia è così determinante a difesa della nostra radice, a difesa della nostra identità, la risposta è che noi stiamo difendendo le condizioni preesistenti alla possibilità di una convivenza pacifica tra i popoli. Se dovesse saltare la radice giuraico-cristiana e ciò che è la nostra identità profonda, lo sguardo verso chi dice fai piovere fuoco dal cielo diventerebbe completamente diverso, diventerebbe assertivo, complice o silente. Questo è estremamente pericoloso nella dialettica che come già vediamo oggi tra i popoli è estremamente capace di creare frizioni e violenze. Veniamo ai fatti di questi giorni. Chi ha letto o capiamo o moriamo sa che la lettura che io do degli eventi degli ultimi anni, degli ultimi 16 anni per la precisione, dall'attentato alle torri gemelle, 11 settembre 2001, all'attentato di Las Vegas del 1 ottobre del 2017, è la lettura di un continuum, un continuum che in o capiamo o moriamo è descritto, è descritto come, come al solito, come piace a me, purtroppo ho questa ossessione, con i fatti, i numeri, i dati, le cifre. Vi ho messo in fila tutti gli attentati che sono stati fatti, molti dei quali non abbiamo memoria perché noi non ricordiamo, mai rimuoviamo questi elementi, ma andatevi a leggere questo capitolo che è davvero, credo, un lavoro anche in termini proprio compilativi e di documentazione fondamentale per la comprensione del fenomeno e vedrete, il capitolo è l'undicesimo, si intitola Il secolo del fondamentalismo islamico e racconta tutti gli attentati fatti contro i cristiani, i simboli cristiani e gli occidentali e i turisti e i resort dal 2001 ad oggi e l'elenco è francamente impressionante. Ancora una volta, numeri, questi 16 anni di combattimento hanno provocato 5530 morti negli attentati. Dovete pensare che tutta la stagione che è durata due decenni, che vi ricorderete forse negli anni 70 e 80, del terrorismo internazionale e del terrorismo nazionale, Brigade Rosse, Rotarme Fraction, IRA, Action Direct, ETA, sul territorio vastissimo dell'Europa provocò poco più di mille morti in due decenni. Poi qualche altro centinaio venne ancora prodotto dal terrorismo islamico di matrice palestinese, finese, ma complessivamente tutta l'attività terroristica dei due decenni, 70 e 80, strage di Monaco, complessivamente, mettiamoci tutto, di tutto il terrorismo di tutte, ha fatto in totale meno di 1500 morti. 16 anni di attività del terrorismo islamico contro gli occidentali e contro i cristiani ha prodotto, e sto togliendo le stragi, quelle che fanno locali rispetto alle questioni islamiche interne, sto mettendo solo gli attacchi agli occidentali, in 16 anni hanno fatto il quadruplo delle vittime, d'accordo? Leggiamo ora quello che è successo banalmente e da cronista negli ultimi 4 giorni, 4 giorni, e che voi probabilmente non conoscete. La sera del 28 settembre, il califato islamico, noto come ISIS, fa risuonare sui media islamici, del fondamentalismo islamico noto in rete, un audio messaggio in cui torna a farsi sentire la voce del califo al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi è il capo riconosciuto dell'ISIS e veniva dato dai media internazionali per morto negli ultimi mesi, si diceva negli attacchi che si erano stati a Raq e a Mosul, è stato silente per molto tempo, il 28 settembre sera si ascolta di nuovo la voce di Abu Bakr al-Baghdadi, tutti gli esperti, compresi gli esperti occidentali dei servizi di intelligence della CIA, confermano che quella è la voce di Abu Bakr al-Baghdadi. Califo dell'ISIS. Il 28 settembre sera, il messaggio ha, come ricorda bene Mauro Rotunno, dei riferimenti diretti alle minacce nordcoreane e alla guerra col Giappone e gli Stati Uniti potenziali. Quindi perché Abu Bakr al-Baghdadi fa quei riferimenti alla tematica nordcoreana? Perché proprio in quelle ore Donald Trump all'Assemblea Generale degli Stati Uniti aveva affermato che avrebbe potuto distruggere la Corea del Nord. 28 settembre sera, oggi è 3 ottobre, dal 29 settembre alla sera fra il primo e il 2 ottobre avvengono 4 attentati, 4. Avvengono gli attentati canadesi ad Edmonton? Nessuno si ricorda, nessuno ve l'ha detto. Sfido voi a avere notizia di due attentati con dei camion, anzi due furgoni utilizzati ad Edmonton. C'è chi dice come faccio a ordinare il libro in formato cartaceo? È facilissimo, tu ti posso comprare il libro dal marketplace del quotidiano La Croce, www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora. Andate lì, lo ordinate, due giorni arriva a casa vostra. Quindi la cosa più semplice per avere o capiamo o moriamo a casa è andare sul marketplace del quotidiano La Croce, www.lacrocequodidiano.it slash abbonarsi trattino ora. Se no in tutte le librerie comunque se lo ordinate vi arrivo. Torniamo a noi. Abu Bakr al Baghdadi fa il messaggio il 28 sera, comincia questa serie di 4 attentati di cui, come dice Simon Pietro Carta, nessuno viene informato. Due attentati ad Edmonton, prima viene, guardate un po', assalito sempre con un furgone un poliziotto, poi scende l'autista e lo accoltella, dopodiché un altro furgone, forse guidato dallo stesso che era fuggito, va addosso a dei civili in Canada. Non nella fuga, attenzione, sono due momenti diversi. Lui fugge, sale su un altro camion e fa alla fine cinque feriti. Viene arrestato, dentro a uno dei due mezzi viene trovata la bandiera nera dell'Isis. Questo fatto è ignoto ai più, ma è accaduto non più di 72 ore fa. Dopodiché due donne a Marsiglia, alla stazione, vengono assalite all'urlo di Allah Akbar e vengono uccise. 48 ore fa, uccise, urlando Allah Akbar. La morte di queste due donne è causata da un tunisino di 30 anni che guarda caso si scopre che si è radicalizzato in carcere, dove faceva lo spacciatore tunisino. Da spacciatore diventa islamista, si radicalizza in carcere e viveva in Italia. Era sposata un'italiana ad Aprilia. Il racconto è qua, di come funziona il meccanismo per cui un ragazzo borderline fa lo spacciatore, perché le comunità di questi paesi hanno una marea di spacciatori leggervi dati sulla popolazione carceraria che trovate qui, non capiamo, moriamo. Alla fine si radicalizza e poi va ad uccidere e a morire, ad uccidere e a morire, in quel della stazione di Marsiglia, urlando Allah Akbar. E veniamo a Stephen Paddock. Come sapete, la sera del primo di ottobre, una persona con 23 armi automatiche, dal 32esimo piano dell'hotel Mandalay Bay della Strip di Las Vegas, comincia a fare fuoco su un concerto country, uccidendo 59 persone e ferendone più di 500. Numeri abnormi, mai vista nella storia degli Stati Uniti d'America, una strage commessa da un uomo solo con questo numero di morti e di feriti. Ora, seguitemi bene. Questa persona si chiama Stephen Paddock, a 64 anni, muore, alla fine dice se è suicidata nella camera nel Mandalay Bay. Cosa vi dicono di tutti questi fatti? Leghiamoli insieme. Cosa vi dicono le cronache sempre? Intanto non ve lo fanno sapere. Di Edmonton non sapete proprio nulla. Marsiglia è diventata importante oggi perché c'è stata Las Vegas, altrimenti sarebbe scomparsa immediatamente. E poi oggi c'è Las Vegas raccontata sempre con il tema del lupo solitario. Vi dicono sempre questa espressione, la trovate sempre. Lupo solitario. Cioè vogliono farvi pensare che tutti questi atti che vengono compiuti con un metodo sistematico, sistematico, siano compiuti da persone fuori di testa che fanno questi atti perché impazziscono. Signori, non è così. Dietro a questi atti c'è una regia evidente. Una regia evidente. I fatti di Edmonton si vengono eseguiti secondo un modello che è l'assalto alle forze di polizia prima di tutto. Guardate quante volte c'è l'assalto alle cosiddette sentinelle, frase interessante, soprattutto nei paesi dove c'è la lingua francese. Sempre con lo stesso medulo, furgone, agente di polizia. Poi c'è quello che fa proprio la strage. Però vi dico, mettiamo il caso che abbiano ragioni i giornali, che la discussione da fare oggi sia quella sulla diffusione dell'armi da fuoco negli Stati Uniti. Ora attenzione, subito dopo questo atto criminale hanno parlato sia Trump, secondo me con un discorso molto bello rivolto ai familiari delle vittime affinché cercassero conforto nelle sacre scritture, nella fede. Secondo me è un bel discorso. Non ha fatto riferimento al terrorismo islamico Trump. E c'è stato anche un discorso di Barack Obama. Attenzione, anche questa volta io trovo come è stato buono il discorso di Trump, ho trovato buono il discorso di Obama, perché Obama è uno che ha fatto sempre una grandissima propaganda sul tema della diffusione delle armi da fuoco, che ovviamente è un tema importante negli Stati Uniti e non lo voglio saltovalutare. In questo caso però Barack Obama non ha in alcun modo accennato al tema della diffusione delle armi da fuoco. Perché? Perché questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Non è la storia di un pazzo che, poiché in America si possono comprare le armi, fa questa strage perché è pazzo. Perché il giorno di ordinaria follia, persino iconograficamente raccontato nei film, è il giorno in cui uno che può disporre di uno o più armi automatiche scende per strada nella scuola e va a sparare. impazzisce e spara. È successo molte volte nella storia degli Stati Uniti. L'accesso alle armi provoca la strage di Columbine e tante altre vicende e storie di questo genere. Cosa ha fatto Stephen Paddock? Primo fatto, certo, l'Isis ha rivendicato l'attentato. Ha rivendicato l'attentato dicendo che Stephen Paddock, che in effetti da mesi era scomparso dai radar persino dai propri familiari, si era radicalizzato, si era convertito all'Islam e aveva assunto il nome di Al-Amriki, nome di battaglia. Questo libro vi racconta le rivendicazioni dell'Isis. L'Isis non rivendica mai fatti in cui non c'entra. L'Isis rivendica solo stragi che ha compiuto, non ha la velleità di mettere la bandierina sopra ogni atto criminale. Se dice che questa cosa è accaduta, con ogni probabilità c'è stata la radicalizzazione e anche la forma di esercitazione per questo signore. E il perché ve lo spiega Maria Dinolfi che conosce bene Las Vegas. A Las Vegas se tu vuoi ammazzare 100 persone o 200 persone con le armi automatiche non ci metti niente, è facilissimo. Scendi per strada, la strip, cioè questa via è sempre piena di centinaia di migliaia di persone, ti metti e spari. E ne uccidi 200. In 10 secondi, in 20 secondi. Tra l'altro oggi su Corriere della Sera, a pagina 5, una firma importantissima definisce, scrive, il strip, scritto Streap. Tutti il mondo conosce la strip, è così. Dico io, perché fate commentare i fatti a gente che non ha la minima idea di cosa si sta parlando. Non ha la minima idea. Pagina 5 è il più importante giornale italiano, una delle più importanti firme italiane, parla di Il Streap, quando è la strip, così come dice, con la I semplice. Allora, ritorniamo ai fatti. Las Vegas ha come caratteristica quella di avere questi grandissimi alberghi. Sono 5.000, 6.000, 8.000, fino a 25.000 stanze in un solo albergo. Sono grattacieli. Non è semplice entrare con 23 armi automatiche in un albergo del genere, perché ci sono guardie di sicurezza sparse ovunque, tu non le vedi, ma sono ovunque. E infatti Stephen Paddock ha dovuto uccidere una guardia di sicurezza. Per poi salire al 32esimo piano. E gli alberghi a Las Vegas hanno una caratteristica. Non hanno finestre. Non hanno finestre. Gli alberghi a Las Vegas non puoi aprire la finestra, perché altrimenti succederebbe di tutto dal 32esimo, 40esimo, 45esimo piano. Tu hai un vetro pesantissimo, antisfondamento. Non hai finestre che puoi aprire e prendere l'aria buona. Anche perché tendenzialmente a 8 mesi l'anno, Las Vegas che sta nel centro del deserto, del Nevada, ha 50 gradi di calore durante il giorno. Quindi non si apre la finestra. Si vive sotto aria condizionata a Las Vegas, sempre, 24 ore su 24. Quindi, fatemi capire bene. Uno che poteva andare in strada sulla street, uccidere 100 persone, senza che se ne accorgessero, prima di essere ucciso evidentemente, non fa questo. Si carica 23 armi automatiche, entra nel pendelibete rischiando di essere scoperto. Viene scoperto, uccide una guardia giurata, sale al 32esimo piano, dove si è andata a registrare con il documento non proprio, ma della propria compagna asiatica, entra, deve sfondare questo vetro, clamorosamente difficile da sfondare, per poi affacciarsi dalla finestra sulla folla. Perché lo fa? Perché fa questo tipo di procedimento? Perché è stato addestrato a farlo. È stato addestrato a farlo perché la finalità era colpire come al Bataclan, cioè colpire un concerto, cioè un luogo di aggregazione, creando terrore. Nella stessa maniera con cui si è fatto l'attentato al concerto di Manchester, nella stessa maniera con cui si è fatto l'attentato al concerto del Bataclan, nella stessa maniera con cui è stato fatto adesso il concerto, l'attentato al concerto di musica country, perché l'Islam odia la musica. È una questione che bisogna comprendere. Questo attentato è un attentato di natura islamica, di fondamentalismo islamico, che deriva dalla volontà del califato di colpire simbolicamente i luoghi dell'aggregazione collettiva e in particolare i luoghi dell'aggregazione musicale, che ricordo per l'Islam è considerato peccato grave, come il Bataclan, come il concerto di Manchester. Quindi un signore è stato addestrato e probabilmente aiutato per compiere questi atti attraverso questo meccanismo preciso. Non andare sulla strippe e uccidere probabilmente di più, ma andare a fare una cosa complicatissima, come andare al 32esimo piano nel Mandalay Bay, dove sfondare la finestra che c'è al vetro antisfondamento e piovere col fuoco dal cielo, guardando in poi riferimento al Vangelo di oggi, piovere col fuoco dal cielo per dare un segno religiosamente simbolico di ciò che stava compiendo. Signori, questo è ciò che è accaduto a Las Vegas, altrimenti è incomprensibile, perché lo ripeto, chiunque conosca anche solo minimamente, Las Vegas sa che la strage a 100 morti si faceva, con 23 armi automatiche, in 15 secondi. Qualcuno ha scritto, l'ho perso, chiestato, che questi argomenti non sono stati detti dai media tradizionali. Graziella Fontana dice, quello che non capisco è il perché le televisioni tacciono. Cosa c'è dietro tutto questo? La prima cosa che c'è è che non sanno, non capiscono, o capiamo o moriamo, esiste per questo, non sanno, non hanno studiato i meccanismi, non conoscono Las Vegas, il coglia della sera scrive la strip definendo il streap, non sanno di che parlano, non sanno l'odio che l'islam fondamentalista hanno nei confronti della musica, non capiscono perché è stato attaccato il Bataclan, non capiscono perché è stato attaccato Manchester, non capiscono perché viene attaccato oggi un festival di musica country, non lo sanno! Bisogna mettere insieme tutti i pezzi, capitolo 11, da pagina 116 a pagina 137, ci sono tutti i pezzi del puzzle e basta metterli insieme, agganciarli uno all'altra per capire quello che sta accadendo. Certo poi a Las Vegas è meglio esserci stati, così uno sa di che sta parlando, ma questi scrivono da Roma, comodi, e scrivono il strip invece della strip e vi raccontano la storia del lupo solitario che è quella che stanno raccontando in particolare i medi americani per non creare il panico tra la popolazione. Fatemi salutare Guido Pianeselli da Meggiugorie, un abbraccio forte, c'è Simona Lupi, c'è Corrado Salonia, Francesco Patuzzi, non capiscono perché hanno una visione ideologica del reale, sono anche profondamente ignoranti però quello che voglio dire, molto spesso non è neanche colpa, questi fanno, il giornalismo italiano fa la copia dei rassunti di quello che legge sul giornalismo straniero, quando sono fatti di politica estera, molto spesso non li capisce, quando poi c'è di mezzo la questione religione, proprio non vuole capire, perché non deve dire che questa è una guerra di natura religiosa, ma è assolutamente questo, come si fa a non capire che uno su un territorio dove fa 40 milioni di visitatori l'anno, come Las Vegas, dove ci sono tutte le sere, centinaje, di migliaia di persone dislocate su un percorso molto breve di 7 miglia che è questa famosa strip, si poteva fare una strage con 23 arbi automatiche immediatamente senza alcuna fatica andando per strada, appunto avendo questa cosa dell'impazzimento del lupo solitario. Massimiliano Amato dice a scuola dove c'è sua moglie, i ragazzi musulmani non vogliono fare l'ora di musica, non vogliono fare l'ora di musica, vedete che cominciamo a mettere insieme i pezzi, grazie Massimiliano per questa cosa, l'Islam odia la musica, il fondamentalismo islamico odia la musica, i fatti che stanno accadendo sono fatti completamente collegati, leggetelo questo cavolo di capitolo, l'Isis non rivendica attentati, fatti o stragi in cui non c'entra direttamente, lo fa solo se c'è la sua matrice. Alessandra Mondelli dice, è indispensabile che tu vada in TV a dire queste cose, fra mezz'ora farò un'intervista a radio Cusano in cui dirò queste cose, racconterò tutti questi fatti, spero che questi fatti travalichino nei media mainstream, ma a me sembrano totalmente evidenti, spiegatemi se sono irrazionale nelle cose che vi sto raccontando, spero davvero che qualcuno di voi il libro l'abbia letto, ho faticato mesi e vi devo dire la verità, molta parte di questo libro è stato scritto a Las Vegas, quindi per certi versi c'è questo incrocio davvero che mi straccia il cuore, io conosco e amo quella città, nonostante tutti gli insulti che ho preso in questi anni per aver sposato Silvia proprio in quella città, ma io conosco e amo Las Vegas e quindi so la bellezza del popolo vero che l'anima, non di quello dei turisti, perché quello dei turisti non conta, che vanno lì un giorno, due, io ci ho sostanzialmente vissuto, è un posto fatto da milioni e milioni di lavoratori che fanno fatica, soffrono, ed è purtroppo un posto molto permeabile all'assalto, ora dobbiamo però aiutare l'Italia e forse anche il mondo a comprendere veramente quello che sta succedendo, se mettete insieme i pezzi capite, se capite non morite, o capiamo o moriamo, non c'è alternativa, dobbiamo renderci conto, questo è un assalto evidentissimamente di natura islamica, è in evidente continuità con gli attacchi al Bataclan e al concerto di Manchester, l'utilizzo di armi automatiche in un luogo come Las Vegas sarebbe semplicissimo in un altro contesto, cioè camminando per strada sulla strippo, entrando in qualsiasi grande albergo dove in una sala piccolissima sono radunate centinaia di persone che giocano ad esempio, quindi sarebbe semplice in un attimo fare più morti, la scelta di farla così, di farla in maniera così complicata, lo ripeto da tanti punti di vista, entrare, entrare e dover uccidere una guardia giurata, doversi registrare per una camera, registrarsi col documento di un'altra, andare in una stanza dove non ci sono finestre e dove l'unica possibilità che hai è sfondare un vetro che è anti sfondamento, cioè farlo con degli strumenti professionali per poi sparare dal cielo, guarda caso dove? su un concerto, signori questo è il pattern, uno dei pattern offerti dal franchising del terrore che si chiama Stato Islamico, che offre il pattern del furgone che assale le persone per strada, Edmonton 72 ore fa, che offre il pattern dello attaccare donne e sgozzarle, Massiglia, due morti, pochi giorni prima c'è stato un assalto a altre due donne, completamente silenziato, attacco a donne, d'accordo, con coltello all'arma bianca, oppure il pattern dell'assalto ad arma da fuoco, preferibilmente su obiettivi di aggregazione degli occidentali, in particolare l'aggregazione di natura musicale. Signori, come si fa a non capirlo? negli ultimi 4 giorni sono accaduti tutti e tre i pattern, tutti e tre i modelli, guarda caso il 28 settembre sera Abu Bakr al-Baghdadi aveva fatto sentire la sua voce dopo mesi di silenzio, sostanzialmente dando il segnale di sveglia alle cosiddette cellule dormienti sul territorio occidentale. Questo è ciò che è accaduto. Fatelo sapere, amici miei, questa puntata di O capiamo o moriamo è una puntata che dovete davvero far arrivare ovunque, perché come ha scritto Alberto Agus, come hanno scritto in molti, attenzione, non voglio farvi sapere e noi dobbiamo bucare in qualche modo lo schermo, far sapere, perché o si capisce o si muore? E noi siamo lo strumento attraverso il quale si capisce. Vi chiedo un mi piace per far scaltare l'algoritmo di Facebook, vi chiedo un condividi sul vostro profilo Facebook, magari con qualche riga in cui spiegate perché questa puntata è importante e poi un invito a amici per invitare i più amici possibili a essere qui presenti ad ascoltare questa diretta, che credo vi abbia dato delle informazioni che su nessun altro mezzo di comunicazione avete ascoltato. Purtroppo, avendo il Corriere della Sera, i giornalisti non sanno neanche che cos'è la strip, scrivono il Strap e sappiamo cosa andiamo avanti, a cosa andiamo in conto attraverso questa forma di giornalismo. Purtroppo oggi la diffusione la faranno tutta sulla diffusione delle armi negli Stati Uniti d'America, cioè vi devieranno completamente il campo della riflessione. Il problema saranno le 23 armi automatiche di questo signore, non il fatto e la dinamica con cui questo attentato si è prodotto, che è evidentemente un pattern del modello dello Stato Islamico. Vi faranno discutere solo della diffusione delle armi in America, che è una discussione ideologica che va a colpevolizzare come sempre un segmento ben preciso della popolazione americana, cioè la destra americana, il centrodestra americano, i trampiani, vi faranno tutta la storia su Trump, però ricordatevi bene che Obama ha preso la parola dopo questa strage e sulla diffusione delle armi non ha detto una parola. Lui che ha sempre parlato di questo tema dopo tutte le altre stragi, ma non su questa, ma non su questa, perché su questa ha capito che siamo davanti a un'altra storia. Ricordatevelo, citatelo, anche Obama ha capito che non poteva fare questo tipo di argomento. Daniela, sì certo che questo non è un argomento secondario, è ovvio, ma non è questa la ragione per cui è accaduta questa strage. Questa strage non è una strage dovuta a un pazzo che ha accesso alle armi. Questa strage è una strage evidentemente etetotiretta, organizzata, con precise indicazioni, con la rivendicazione dell'ISIS e con il nome di battaglia del 63enne americano Stephen Paddock che si faceva chiamare ormai Al-Amriki. Agnese Mascellà dice come fai ad avere queste informazioni riguardanti del 63enne americano, studio Cananese, faccio la giornalista veramente, faccio il giornalista veramente e non mi accontento di ciò che leggo sui giornali italiani, non mi accontento di ciò che leggo o sento dalla televisione italiana. Faccio il giornalista, approfondisco, cerco di raccontare i fatti e raccontando i fatti provo a dare un disegno diverso quando vedo che il racconto che c'è nei media tradizionali è palesemente fuorviato da elementi ideologici o addirittura da ignoranza enorme rispetto alla dinamica. Questo è il lavoro che credo sia giusto fare qui a Stampevangelo, illuminati peraltro da una pagina di Vangelo bellissima come quella di oggi e credo anche con alcuni fatti che avete ascoltato. Ovviamente meno armi, siamo tutti contenti, ci sono meno armi, Daniela hai ragione, però non mi faccio inchiodare a questo dibattito oggi. Oggi voglio dibattere della dinamica di ciò che è accaduto, del perché è accaduto, del come è accaduto e di che cos'è questa storia. Questa storia è una storia di fondamentalismo islamico, non è un pensionato pazzo che a un certo punto si è messo a sparare. Non è andata così. Saluto Mirko De Carli, saluto Gaetana Gallo, Pierpaolo Ricci, Gasperina Anna Ligiato, Cristina Zaccanti, a 63 anni, ancora più ragionata, una strage che purifica dalla corruzione occidentale. Brava Cristina. Saluto Paolo Ruotolo, Elisabetta Ragni. Suo fratello intervistato non sapeva di questo suo cambiamento. Certo, il fratello l'aveva completamente perso dai radar. È quello che succede sempre nella fase di radicalizzazione. Nella fase di radicalizzazione, il radicalizzato perde i contatti con la famiglia. Alberto Mori dice, non bisogna aver timore di quattro scemi che distorcono la religione islamica, ma di chi vive senza dovere civico. Certamente, ma nel frattempo cerchiamo di comprendere ciò che abbiamo raccontato oggi. Danilo Lonardi dice, paradossale che nessun media abbia colto il punto dell'islamizzazione dell'attentatore. Carmine Desario dice, o capiamo o moriamo, penso che stiamo inesorabilmente più verso la seconda. No, noi se capiamo i fenomeni li possiamo contrastare. Se capiamo i fenomeni li possiamo contrastare. Saluto Raffaele Adinolfi che dice, notevole trasmissione oggi, grazie. Un saluto a Raffaele, Caterina Francone, Stefano Sigali, quanto mare improverato perché lo chiamo sempre Sigali. Stefano Sigali che parla di giornalismo fasullo. Saluto Mauro Rotunno che dice condividete il video, condividetelo davvero. Saluto Roberta Palmigiani, Federico Pieroni, Alessandra Bertozzi, Daniela Tascini, Bartolomeo Zicchitella, questo sì che è giornalismo. Proviamo a farlo davvero, proviamo a farlo nella maniera più sensata possibile, senza voler mai spaventare, senza voler mai dare al lupo al lupo, ma raccontando quello che è. Se volete alle 9.30 faccio un'intervista a Radio Cusano in cui ripeterò questi argomenti, li ripeterò con grande attenzione, spero di farmi comprendere e voi pregate affinché le mie parole siano chiare e che possano travalicare poi da Radio Cusano anche nel sistema mediatico tradizionale. tradizionale. Come dite voi, bisogna fare informazione per capire, come dice Mauro Chialastri e Alicia Cortelano, grazie per la verità che dici, grazie a voi se farete esplodere questa verità sulla rete in maniera che sia compresa, altrimenti davvero c'è ragione Elisa Baldon, pare che sia più importante parlare del Grande Fratello, oggi c'è una paginata, l'intervista Ilari Blasi sul Grande Fratello, insomma roba da pazzi davvero. Saluto Mario Negri, Saverio Clarizio, che addirittura dice sarai la svolta del giornalismo italiano, non sono niente, però sono un giornalista, provo a raccontare i fatti che sono, sono anche un dirigente del popolo della famiglia dunque interessato a difendere la famiglia italiana dal possibile drammatico epilogo di questa non comprensione di un fenomeno. Saluto Monica Consiglieri, Francesco Ferraro, Benedetta Caputo, Mirta Sartori, un abbraccio davvero a tutti voi, mi muovo per preparare questa intervista delle 9.30 a Radio Cusano Campus su questo argomento, c'è anche Antonella Bagno che credo oggi abbia l'esorgio sul quotidiano La Croce, quindi voglio ringraziarla e farle le congratulazioni perché oggi c'è l'esorgio di Antonella Bagno, c'è il suo primo articolo sul quotidiano La Croce, il numero del quotidiano oggi ve lo consiglio assolutamente, ovviamente apre sulla strage di Las Vegas, c'è l'editoriale di una suora molto impegnata sul fronte della libertà scolastica, la suora Anna Moni Alteri che vi consiglio, è davvero una grande donna, una grande sorella, il suo editoriale sulla libertà scolastica è davvero molto importante, facciamolo circolare. Il fatto che aumenti il numero di sacerdoti, con il Don Francesco Morcavallo, eccolo qua, Don Francesco Colamona, con i tanti che ormai si impegnano neanche di religiosi e religiose, penso a Fratello Antonio Giannacone, Sonanna Moni, insomma tante persone che si avvicinano al nostro mondo, al popolo della famiglia e cominciano a coglierne forse un elemento di forza e un elemento di incoraggiamento in più per il lavoro che stiamo compiendo. Vado a prepararmi allora per la intervista a Radio Cusano Campus, voglio rispondere anche a Graziella Fontana che dice perché non sei invitato da Padre Livio. Sapete che ho fatto una trasmissione a lungo su Radio Maria, c'è un ottimo rapporto con Padre Livio, l'impegno politico ci ha fatto dire insieme che era bene non avere una personalità tipo politico che faceva una trasmissione su Radio Maria, ma c'è totale amicizia e simpatia con Padre Livio, tant'è che io finisco la mia stampa Evangelo proprio in tempo per farvi ascoltare la rassegna stampa di Padre Livio. Saluto Roberto Mura, saluto Andrea Aquilino, Alessandro Camera, Francesca Patuzzi che assicura le preghiere per il mio intervento che terrò a breve su Radio Cusano, vi ringrazio molto, dalle 9.30 mi troverete in diretta a Radio Cusano, vi ringrazio molto. Un abbraccio da Marinoffi, l'appuntamento con Stampa Evangelo e per domani sempre alla stessa ora, 8 e qualche minuto, fate circolare se potete e se volete questa diretta sul vostro profilo, tra i vostri amici, spero che più persone possibili possano raccogliere le notizie che da Stampa Evangelo possiamo far arrivare a tutta Italia. Saluto anche Claudia Brignoli, Patrizia Bertini, Faustino Cogliandro, Antonietta De Jeso, un abbraccio a tutti voi, Anna Ciappa, grande Mario, lo ripeto sempre, sono solo grosso, un abbraccio ad Alberto Mori e a tutti coloro che hanno ascoltato la puntata di oggi di Stampa Evangelo. Da Marinoffi una buona giornata.